Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Gerus e voi siete nel mio piccolo spazio sul web per parlare di passioni. Oggi ci dedichiamo a un film che ho avuto l'occasione di vedere in anteprima stampa e che esce proprio oggi nelle sale. The Watchers, loro ti guardano, primo lavoro e quindi opera d'esordio della figlia di Shyamalan, Isshana Knight Shyamalan. E prima di partire quindi un ringraziamento ovviamente a tutto il team della Warner che mi ha permesso di poter vedere questo film in anteprima stampa e di poter essere qui a dirvi la mia. E ovviamente ne approfittiamo per il solito ringraziamento ai Patreon che decidono di supportare il canale e specifichiamo che ci dedicheremo in un primo blocco senza spoiler a parlare un po' rapidamente del film senza entrare troppo nelle vicende soprattutto narrative perché in buona parte quelle non vanno spoilerate per poi concederci il solito inserto spoiler sul finale per poter parlare di alcune scene, di alcune questioni che sono un po' i punti deboli anche di questo film ma che devo spoilerarvi per poterne parlare a dovere. Il film seguirà da vicino Mina interpretata da Dakota Fanning, una giovane ragazza irlandese che per una consegna di lavoro si trova a portare un animale verso una destinazione, passa in mezzo ad un bosco che abbiamo già intravisto dall'incipit essere un bosco un po' particolare e finisce intrappolata in questo bosco. Lei si rifugia all'interno di questo bosco nell'unica struttura che trova, una stanza molto particolare con tre lati in cemento armato e uno interamente in vetro dall'interno uno specchio, dall'esterno una finestra. All'interno ci sono tre persone e a quanto pare qualcosa tutte le notti arriva lì per guardarli. Loro ti guardano appunto. Questa è l'unica cosa che vi dirò sul fronte narrativo. Parliamo un po' di questo esordio della figlia di uno dei registi che seppur spesso consegni film imperfetti io ho sempre apprezzato molto perché è uno di quei registi che quantomeno ci prova a portare delle storie interessanti e diciamo pure che sua figlia sembra già partire sul binario di quella che è la produzione del padre. Quindi abbiamo degli elementi di soprannaturale, abbiamo l'uso di certi colpi di scena alla maniera del papà o quantomeno provandoci e abbiamo anche una narrazione che si poggia un po' su quella che è dell'atmosfera e le sensazioni che il film prova a produrre. Siamo davanti a un film che comunque ho trovato un'opera interessante, un'opera che possiamo guardare insomma non un capolavoro, nemmeno un fallimento totale almeno per quanto mi riguarda, ma ci troviamo dalle parti di una sufficienza, di un film che può forse arrivare a un 7 volendogli bene, ma non più di quello, non mi sbilancerei almeno personalmente più di quello. Perché seppur il canovaccio iniziale sia interessante, seppur gli elementi soprannaturali siano gestiti in modo anche sfizioso, riuscendo a creare una bella tensione, a creare un po' degli elementi ecco di curiosità quantomeno, poi la loro rivelazione non è accompagnata da un lavoro adeguato, abusando spesso di quelli che sono le classiche dinamiche di spiegoni, che qui sono piccoli spieghini ma sparpagliati. Non posso fare a meno di pensare ogni volta che mi hai voluto spiegare tutto, ma il film non è gli eventi che succedono o qual è la loro motivazione, ma come mi metti in scena e mi mostri quegli eventi, mi fai capire quelle motivazioni. E ovviamente però da un'opera prima magari ci si può aspettare un po' di ingenuità, vari errori qua e là. Dal punto di vista sempre narrativo, che è per quanto mi riguarda l'elemento un po' più debole in realtà di tutto, abbiamo fondamentalmente anche una gestione un po' a singhiozzo sia di quelli che sono gli elementi del ritmo e della narrazione stessa, con degli elementi che avrei voluto vedere un po' più approfonditi, che non vengono approfonditi o alle volte quasi, perché ho detto a singhiozzo, perché ci sono quasi dei salti, dei passaggi che sono un po' troppo velocizzati e che quindi vengono sempre un pochino a stridere nella loro messa in scena. Dall'altra è poi un film che vuole fare dei discorsi su alcune tematiche ma che non riesce ad amalgamare bene quella che è la narrazione attorno alla protagonista e di quella che è un po' il suo vissuto, che in una qualche misura si vorrebbe rispecchiare negli eventi soprannaturali che andiamo a raccontare, ma che non lo riesce a fare a suo meglio e anzi un po' perché l'attrice, che io non apprezzo troppo, non riesce a dare un'interpretazione secondo me valida del personaggio, dall'altro proprio perché per come è scritto, per come le sue battute sono scritte, per come il suo agire è accompagnato dalla messa in scena, non riescono a amalgamarsi bene, semplicemente risultando quasi due componenti abbozzate nell'idea ma che poi non riescono ad andare a braccetto e potenziarsi a vicenda. Oltre questo abbiamo tante ingenuità sparse che falliscono un po' anche nel mantenere e soprattutto nello sviluppare quelli che sono i presupposti iniziali che sono interessanti e che potrebbero anche colpirvi nelle tematiche perché magari possono essere qualcosa che quantomeno vi potrebbe sembrare differente dal solito, un'idea almeno presa da alcuni elementi di mito che non siamo così soliti vedere o quantomeno negli ultimi anni, ecco, vedere messi in scena. E come dicevo questo è un film anche sparso da varie piccole ingenuità che falliscono nel consegnarci dei colpi di scena in grado di sorprenderci. Personalmente li ho visti tutti arrivare da molto lontano e quindi ovviamente stai lì e dici ok sappiamo dove vuoi andare a parare, aspettiamo il momento della rivelazione per vedere se ho indovinato e ovviamente avevo indovinato. È un po' un peccato soprattutto perché è una dinamica che ho già ritrovato tanto in tante opere del padre che ci provo ormai sempre a metterci dentro il colpo di scena e che ultimamente fallisce spesso. Il film poi appunto in termini di messa a scena non vi farà urlare al miracolo, stessa cosa dal punto di vista visivo della fotografia, dal punto di vista tecnico, però non è nemmeno un disastro completo. Ci troviamo davanti ad una messa in scena che comunque riesce ad essere dignitosa e riesce in una qualche misura a gestire un po' l'atmosfera della narrazione e forse l'elemento che più è interessante è proprio l'idea di base e l'atmosfera che ruota attorno all'idea di base, alla costruzione di questa narrazione, di questo mito in una qualche misura. L'uso di questi elementi, di questi watchers, sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista proprio dell'atmosfera che si riesce a creare, soprattutto giocando con il non detto, non visto, almeno nella prima parte, prima di quando arrivano troppi spieghini, che sono interessanti come elementi, però purtroppo appunto non vengono davvero utilizzati, ma sono solo un escamotage nella parte iniziale, nella costruzione della tensione, senza concederci un po' più di scene che li riescano davvero a utilizzare. E questo è un po' un peccato, è una cosa che ogni tanto torna anche nei film del padre, mi rendo conto. Scusate se sto facendo molti parallelismi, ma per me è stato impossibile non farli. Quindi è un film che vale la pena vedere in senso assoluto? No, assolutamente no. Però se come il sottoscritto prima della visione siete incuriositi dal vedere appunto come si comporterà la figlia di Shyamalan, se anche Isshana seguirà appunto la strada tracciata da suo padre, ecco magari comunque la visione vi consegnerà qualcosa che alla fine si farà guardare. Non è un film che resterà nella vostra memoria, non è l'incipit che ha dato il via appunto alla carriera del padre, ma non è nemmeno, almeno secondo me ancora una volta, un film totalmente da bocciare. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione e mentre vi allontanate dal mio piccolo spazio sul web ci prendiamo un po' un momento per parlarne con spoiler. Quindi 3, 2, 1 e andiamo. Cerchiamo un po' di vedere quali sono le problematiche che io ho identificato principali facendo un po' di spoiler e partiamo da quella più ovvia, i colpi di scena. Ho usato il plurale perché il film cerca di puntare tanto su due colpi di scena principali, entrambi legati al ruolo del personaggio malvagio, diciamo così, all'interno del gruppo malvagio tra virgolette in realtà, che sono di un prevedibile infinito. Da una parte perché l'infiltrata, chiamiamola così, del gruppo è proprio la persona che da più tempo sta vivendo quell'esperienza, così ci viene presentata e quindi risulta un pochino facile aspettarsi che sia proprio lei, che è l'unica che ne sa un po' di più, che sarà quella che davvero si rivelerà essere il personaggio un pochino da cui stare attenti, quantomeno in un determinato momento ecco della narrazione. Dall'altra a un certo punto abbiamo questo professore che viene nominato più volte e che proprio nei momenti finali quando si scopre il bunker vediamo aver finito il suo ciclo, la sua vita all'interno di questa foresta senza avere contatti con altri umani. A quel punto è proprio evidente chi è la persona più anziana perché sappiamo che qualcuno di sto professore ne ha parlato, il film non ci dà modo di avere qualche elemento che ci possa distrarre la nostra attenzione, magari parlando di alcuni documenti che sono stati trovati nella stanza, che poteva essere un escamotaggio anche abbastanza facile per far capire che c'era qualcuno che era lì da prima, che c'era qualcuno che ne sapeva più degli altri e che non aveva avuto un contatto diretto con nessuno lì e quindi ti poteva restare il dubbio ma se tu mi parli di sto professore non mi fa vedere che ci sono altri punti di contatto è evidente che qualcuno sto professore l'ha conosciuto e se nella sezione in cui mi fai vedere l'approfondimento dei video io non trovo nessun elemento che mi va a portare in direzioni diverse, tutto quello che mi fai mostrare mi dice chiaramente che l'unica persona che potesse conoscerlo era proprio il changeling, il mutaforme a quel punto di che cazzo stiamo a parlare, è ovvio chi è e quindi ti sei bruciato l'elemento, il colpo di scena più grosso nel modo più sbagliato. Dopo secondo colpo di scena con lei quando nella rivelazione finale abbiamo Mina che si confronta con l'altra ragazza dicendogli guarda abbiamo portato fuori un changeling, abbiamo proprio un problema perché è evidentissimo, lo sappiamo benissimo che lei sta già parlando con il changeling. Chiamiamolo un po' intuito ma è una roba che abbiamo già visto tantissime volte nei film e quindi pure quella non riesce a stupirci in alcun modo, è un po' un peccato. Altri elementi proprio molto deboli secondo me dal punto di vista della gestione più o meno importanti in funzione del peso che gli vogliamo dare. Da una parte il fatto che io devo credere che c'è gente nascosta in questa casa da anzi sa quanto tempo e che c'era un tappeto sopra una botola e nessuno ha mai pensato di alzare il tappeto. Io non ci posso credere che gente sia stata chiusa in una stanza per mesi, mesi, anni e nessuno ha mai detto ragà ma alziamo il tappeto, spostiamo le cose, cerchiamo in giro e se cerchi in giro in una stanza che è pressoché vuota e il tappeto lo alzi. Però va bene, è una cazzata. Altra cazzata ma qui più ancora una volta di messa in scena, mi fai vedere che sul computer dentro la botola ci stanno 300 video e guarda caso gli unici che in un'unica sezione, lei se mette davanti al computer, mina con tutti gli altri e comincia a vedere i video e vede solo video significativi, non vede video su 300 giornate in cui non c'è un cazzo di niente di elemento interessante ma ci sono proprio tutti gli elementi narrativi che servono alla narrazione del film. Ora capisco che è una cazzata pure questa, ok? È un elemento che possiamo concedere soprattutto a un primo film, però è stato scelto di scrivere determinate scene in determinati modi. la potevi semplicemente gestire facendoli stare più tempo nel bunker sotto e gestendo le inquadrature e le scene facendomi vedere che mina c'aveva una sessione che si spiluccava tutti sti video mentre gli altri magari una volta mangiavano facevano altro. Un po' come ha fatto anche solo la serie Lost e nella questione botola ritorna tanto il pensiero di Lost anche nell'estetica del computer. e in quel modo io do per scontato che le informazioni che mi fai vedere sono un estrapolato delle robe significative. No che guarda caso ma hai beccato 3-4 video iniziali con tutti i dettagli, il video finale con il dettaglio importante. Eh? Dai! So cazzate, io me ne rendo conto, però so cazzate che hanno soprattutto quando ce ne varie nel film un peso che comincia a essere importante. Altra cosa che mi ha fatto molto sorridere è il fatto che noi ci viene detto che questi changeling, le fate, chiamiatele come volete, sono di fatto bloccate da una maledizione, chiamiamola come vogliamo, però non sappiamo cos'è che li blocca lì davvero. Sappiamo però che la mezza umana, quindi il changeling infiltrato, scappa con loro. Scappa con loro ma di fatto l'unica cosa che fa per scappare con loro è arrivare in una barca, trovare la barca e salirci sopra. Qual era la grande maledizione che li teneva bloccati lì dentro? Perché c'è proprio uno scambio e qui dice ah io ti sono riconoscente perché se non fosse stato per te non sarei mai riuscito a uscire. Perché? Qual è la maledizione? Non riuscire a tirare su un telo dove vediamo che c'è una barca? Perché non mi puoi nemmeno dire che semplicemente in qualche modo magico ai changeling non era dato trovare l'uscita verso il lago. Perché se poi mi fai vedere che mentre loro stanno scappando in barca sono tutti lì sulla riva i changeling, loro lì ci potevano andare. E se quelli stanno lì da tutta la vita e si sono scavati a mani la loro uscita dal sottosuolo è una cazzata pensare che non sono mai riusciti ad arrivare in quel lago al bordo del coso. Non c'ha senso, non c'ha semplicemente senso. C'è poco da fare. Non hai scelto di farmi avere quel dettaglio. E però è un problema perché poi è un dettaglio comunque non da poco. Ok? Non mi puoi incensare tutta questa questione del so bloccati qua dentro come noi e poi però in realtà basta arrivare in lago e trovare un mezzo di locomozione di qualche natura. Dall'altro punto l'altra problematica che ho evidenziato sulla questione dei temi e del poco lavoro di amalgamazione della vita di Mina con il tema è un po' debole in genere. Da una parte perché arriva un po' quasi gestita in modo casuale. Non abbiamo momenti di rivelazioni, non abbiamo momenti che accompagnano in modo naturale quelle rivelazioni appunto sul passato della nostra donna. Sono semplicemente montare a un certo punto in mezzo. Un po' come lo scambio fra gli altri due ragazzi bloccati nel cubicolo, nel covo. Non so come l'hanno tradotto in italiano, io l'ho visto in lingua originale. Che mentre ballano lui semplicemente a un certo punto si mette a parlare di suo padre che era un alcolizzato così dal nulla. E tutte quelle piccole ingenuità di cui parlo. Basta poco. Anziché uscirsi in a caso. Mio padre era un brigagone bla bla bla. Gli fedi anche a mio padre piaceva ballare. Basta una frase per contestualizzare uno scambio alle volte. In modo che quello che noi vediamo, gli eventi che succedono portino conseguentemente a delle cose che noi possiamo accettare come riflessioni normali. Ok nella vita tutti magari mentre stiamo a ballare potrebbe capitare che ci si accende un barlume di un ricordo a cazzo e lo condividiamo. Però all'interno di una narrazione che deve avere un flusso so cose che fanno stridere. Piccole cose che fanno stridere ancora una volta. Ma se sono tante piccole cose lo stridore diventa più forte. E al di là di questa parentesi, scusate ve l'ho buttata qui in mezzo, la questione proprio di Mina è un po' gestita così. È il tema del doppio che chiaramente il film vuole provare a mettere in mezzo perché tutto il discorso attorno ai changeling parla di quello di imitazione, di ricreare l'altra persona, la loro immagine, il loro potere e di conseguenza è quello che ci aveva anche fatti temere, che ha portato alla guerra e bla bla bla. Però tutta quella roba non è ben fusa con tutta la questione del senso di colpa di Mina che ci viene fatto vedere, della questione che lei aveva una gemella, io a un certo punto me lo sono chiesto, una sorella era una gemella perché a vedere le bambine non mi sembrava. Però mi era venuto il dubbio che lo volessero fare. È il parrocchetto che te porti dietro, che ti imita e tutto quello è chiaramente il tema centrale. Ma i vari elementi che dovrebbero far brillare quel tema non sono in alcun modo amalgamati, sono semplicemente montati in sequenza a un certo punto e basta. Questo è l'elemento più debole insieme a appunto quei due, tre passaggi chiave narrativi che un po' mi sono dispiaciuti, non siano stati gestiti in modo diverso. A questo appunto uniamo tutte le piccole banalità, le piccole sciocchezzuole, anche ecco, narrative buttate lì un po' così. È un po' un peccato. E sono poi gli elementi che vanno un po' ad affossare invece quelle note di pregio di cui ho parlato legate proprio all'atmosfera, alla creazione e all'uso di queste figure mitologiche che sono interessanti. Peccato ancora una volta che al di là di un paio di scene interessanti e ne avrei volute vedere di più, tipo quella lì in cui lei sta giù sotto terra e vediamo quella mano con molte dita che si avvicina a lei ed è una bella scena, però dura pochissimo e sono tutte così. Scene piccole interessanti qua e là che ti danno qualcosa ma che poi non vengono mai sfruttate in modo vero per darci una soddisfazione maggiore. Quello è un po' mi dispiaciuto. E quindi niente, ancora una volta fatemi sapere nei commenti la vostra opinione e intanto un grazie di cuore a tutti quelli che sceglieranno di commentare magari questo video dandomi il vostro feedback. Io sono curioso di vedere magari una seconda opera, malgrado questo film non sia un successo in senso assoluto, perché comunque almeno sul fronte delle atmosfere è stato fatto un lavoro interessante. Le idee di base, le idee di questa mitologia sono state affascinanti, potevano essere spiegate meglio, però almeno gli assunti di partenza c'erano ancora una volta, quindi del potenziale potrebbe esserci. Magari il potenziale deriva solo da un buon libro di partenza e in quel caso c'è poco da aggiungere. E quindi semplicemente grazie a tutti voi un'ultima volta, ci si rivede la prossima volta e ricordate di tenervi aggrappati alle vostre passioni perché sono quelle che ci tengono in vita. Ciao belli! Grazie a tutti!